Il 20 maggio del 2016 fu l'anniversario della nascita di Giuseppe Siri. Governò Genova dal 1946 al 1987, il più lungo e difficilmente raggiungibile episcopato. Cardinale a 47 anni, era pronto per essere eletto Papa nel 1958. Ed è forse quello che avvenne, nel senso che la storia sussurrata, nascosta e rifiutata, ci racconta a proposito una strana vicenda. Erano gli anni della Guerra Fredda, e l'Italia, veniva chiamata la portaerea americana, con i missili atomici di Camp Derby, tra Pisa e Livorno, puntati sull'Unione Sovietica, e i bombardieri di Aviano pronti a decollare verso Est. In quegli anni serviva quindi, alla politica laica e religiosa, un Papa che rappresentasse un baluardo contro il mondo ateo e marxista. Siri era l'uomo giusto al posto giusto e nel momento giusto, forte, autoritario, grande organizzatore e di fede incrollabile. Lo proposero con forza i cardinali Tappouni, iracheno, Alisi Masella, e il potente Gaetano Cicognani, prefetto della Congregazione per i Riti. Secondo loro, Giuseppe Siri era l'unico cardinale in grado di continuare il magistero di Pio XII e la sua visione monolitica della Chiesa Cattolica. Il conclave iniziò il 25 ottobre, e il 26, alle 11.53, in Piazza San Pietro, 200.000 persone in attesa, videro una fumata bianca elevarsi dal cammino della Cappella Sistina. E milioni di persone ascoltarono dalla Radio Vaticana la voce del commentatore Il Papa è stato eletto. Pochi minuti dopo, tuttavia, dallo stesso cammino si levò una fumata nera. Tutto è ormai pronto nel sacro recinto del conclave. Qui 51 cardinali indicheranno il nuovo vicario di Cristo. In questa stufa verranno bruciate le schede delle votazioni. Se il Papa non sarà stato eletto, le schede miste a paglia inumidita e pece daranno una fumata nera. Ancora qualche straneo è ammesso negli ambienti del conclave. Tra qualche ora, con la rituale frase extra omnes, nessuno potrà più entrarvi sino a che il pontefice non sarà stato eletto. I principi della Chiesa fanno il loro ingresso nella Basilica di San Pietro per assistere alla Santa Messa del Spirito Santo, che sarà ufficiata dal cardinale Tisserò, decano del Sacro Collegio. Nel pomeriggio di sabato 25 ottobre i cardinali hanno raggiunto la Cappella Sistina. Vi rimarranno separati dal mondo sino a che non avranno indicato il nuovo successore di Pietro. E la grande attesa incomincia. Domenica mattina verso le 11, dal fumaiolo della Sistina si leva una nube bianca. Viva il Papa, si grida. Ma altro flumo, denso e nero questo, viene a deludere l'esultanza popolare. Nel pomeriggio la folla si moltiplica. In piazza San Pietro si assiepano non meno di 200.000 persone. Ancora una volta la fumata nera avverte che l'esito delle votazioni è stato negativo. Ma ecco infine il martedì pomeriggio. Una breve candida fumata annunziare al mondo che la Chiesa Cattolica ha il suo nuovo supremo reggitore. L'immensa folla è percorsa da una forata di gioiosa esultanza. Sono attimi di intensa commozione che danno la misura delle profonde radici popolari della fede cristiana. Ora tutti gli occhi sono fissi al balcone della sala delle benedizioni, di dove il cardinale Canali farà conoscere al mondo il nome del nuovo pontefice. Il 262esimo vicario di Cristo è Angelo Roncalli che ha scelto il nome di Giovanni ventitresi. La cronaca di quei momenti fu riportata fedelmente dal Corriere d'Informazione dei due giorni successivi, raccogliendo anche molte testimonianze, tra cui quella, sconvolta, del principe Chigi, maresciallo del conclave che dichiarò egli stesso di aver visto una fumata prima giallastra e poi bianca. In molti parlarono di un errore tecnico, un fatto tuttavia mai accaduto nella storia dei conclavi. Ma un mormorio, condiviso da molti, dette una diversa spiegazione, con tutti i dubbi del caso. Proprio nel conclave, in quel luogo impenetrabile, al voto conclusivo che sanciva l'elezione di Siri, ci fu un avvertimento, o piuttosto una minaccia, portata da oltre cortina da un cardinale rimasto annonimo. Se fosse stato proclamato Papa, Giuseppe Siri, di cui era noto l'anticomunismo viscerale, in Unione Sovietica e in tutti i paesi satelliti, sarebbero inevitabilmente partite le persecuzioni nei confronti dei preti cattolici. Momenti che si possono immaginare più che drammatici, e che forse corrispondono proprio a quello spazio temporale tra la fumata bianca e quella successiva nera. Così, Gregorio XVII, il nome che Siri si era imposto, cedette il passo nella rapida successiva consultazione, a Giovanni XXIII. Il quale, rivolgendosi a Siri, che gli si inginocchiava davanti, gli disse che avrebbe dovuto essere lui a baciargli la mano. E quel nome, Giovanni XXIII, già di un antipapa, sarebbe, secondo alcuni, un segnale che Roncalli volle dare per indicare un'elezione irregolare. Fantasie e supposizioni complottistiche? Può essere. Il 18 maggio del 1985, nella curia genovese di San Lorenzo, Siri ricevette alcuni amici, tra cui il teologo Juiu Berremy. A una sua precisa domanda sugli avvenimenti di quei giorni Siri rispose, sono legato dal segreto. Questo segreto è orribile. Potrei scrivere libri sui diversi conclavi. Cose molto serie sono accadute in quelle occasioni. Ma non posso dire nulla. Molte di queste notizie si conoscono anche grazie a un libro, di Vatican Exposed, scritto del 2003, da Paul Williams. Un agente dell'FBI, tra i primi a leggere le carte desecretate relative ai quei fatti grazie al Freedom Information Act. È vera dunque questa storia? Dato che i servizi segreti di tutto il mondo sono esperti nell'arte della cosiddetta disinformazia, che mescola il vero al falso in modo che nessuno, alla fine, conosca la verità. D'altra parte è meglio porsi delle domande, che aprono la mente, piuttosto che avere delle risposte, che spesso la chiudono. Notizianza Notizianza Grazie a tutti